Giorgia Meloni riceve un insulto da un professore del Trentino Alto Adige Sì, io la notizia l'ho letta e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video Vediamo di che si tratta Un professore ha detto e scritto pubblicamente Che Giorgia Meloni assomiglia a una di quelle turiste vomitate dai pullman Che vengono qua a visitare i nostri mercatini Beh, è un caso sbelli Perché adesso ci saranno degli accertamenti scolastici Degli accertamenti scolastici nei confronti di questo prof Di questo prof che ha insultato Giorgia Meloni Che è un prof, ha detto proprio così Giorgia Meloni assomiglia a una di quelle turiste vomitate dai pullman Che vengono qua a portarci i turisti a visitare il sabato A visitare i nostri mercatini qua in Trentino Alto Adige Chi sia Giorgia Meloni lo sapete tutti, lo sapete Giorgia Meloni è segretaria di Fratelli d'Italia E Fratelli d'Italia nasce dal partito di Gianfranco Fini Gianfranco Fini, destra nazionale, movimento sociale italiano La Fiamma Dricolore Fratelli d'Italia, c'è tutto un filo Un filo che porta Fratelli d'Italia a Gianfranco Fini Sapete, Gianfranco Fini è quello che ha sfidato Silvio Berlusconi Poi si torna indietro, chi ha matricolore, si torna al partito nazionale fascista C'è tutto un filo diretto Il fatto è che, facciamo un po' di storia, la grande storia Il fatto è che nel ventennio, ai tempi del Duce Da parte di noi italiani non c'era tanta simpatia per il Trentino Alto Adige Perché nel Trentino Alto Adige si parlava la lingua tedesca E il Trentino Alto Adige aveva fatto parte del grande impero austro-ungarico L'impero asburgico E sino al 4 novembre 1918 Cioè sino alla fine della prima guerra mondiale La prima guerra mondiale l'abbiamo vinta noi L'ha persa l'impero austro-ungarico, l'impero asburgico E quindi dopo l'Austria Ho torto collo Ha dovuto cedere all'Italia Quelle terre che noi chiamiamo Trentino Alto Adige Ma che per l'impero austro-ungarico E per l'Austria Invece si chiamano Sud Tirolo Perché il Tirolo si divide in due zone Il Nord Tirolo che sta dentro l'Austria E il Sud Tirolo che adesso ce lo siamo presi noi Sud Tirolo sapete che c'è stato C'è anche un partito Partito del Sud Tirolo E allora E allora è rimasto un po' di risentimento Perché che sia chiaro Io ho insegnato filosofia e storia nei licei classici scientifici E poi sono stato pure presi di ruolo sempre nei licei classici scientifici Quindi la storia la conosco molto bene E non c'è mica stato soltanto l'irredentismo filo italiano alla Cesare Battisti Qui è da quelle parti lassù E là su c'è stato e c'è C'è anche un irredentismo filo germanico Filo austriaco, filo asbuggico Per cui questo professore Questo professore che insegna In una scuola del Trentino Alto Attice Si vede che rientra in questo filone Tra virgolette Irredentistico Filo asbuggico Filo austriaco, filo germanico E tale irredentismo non può avere tanta simpatia Nei confronti di Giorgia Meloni Che è leader di Fratelli d'Italia E qua ripeto perché è ripetita Juve C'è tutto un filo che porta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni Alla destra nazionale di Gianfranco Fini E la destra nazionale di Gianfranco Fini Con la fiamma di colore Poi andiamo un po' più in là Che porta al partito nazionale fascista Apsi, Tinuria, Verbi Mi raccomando Ma questa è la storia Cosa volete che vi dica io Cosa volete che vi dica Io semplicemente ho insegnato Filosofia e storia Nei licei classici e scientifici E poi sono stato presi di ruolo Sempre nei licei classici e scientifici Ah che sia chiaro Giorgia Meloni Adesso questo prof Subirà degli accertamenti disciplinari E io lo so come vanno queste rose Perché appunto sono stato preside Preside di ruolo Di licei classici e scientifici Questo professore Sembra che abbia fatto pure dei riferimenti All'accento 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 di Giorgia Meloni Che è un accento romano Quindi per loro Per loro Loro Del sud a Tirolo Giorgia Meloni È una suddista È una suddista È una suddista Voi sapete che c'è l'accento romano L'accento strascicato Strascicato Beh io le so queste rose Perché ho vissuto Alla Garbadella Giorgia Meloni È nata È nata ed è cresciuta Alla Garbadella Alla Garbadella Alla Garbadella Che io definisco È il migliore Quartiere di Roma Io la Garbadella La conosco come le mie tasche Giorgia Meloni Come le mie tasche Capito Giorgia Meloni Io lo so Sai dove hai vissuto Tu alla Garbadella Perché io Ho frequentato L'oratorio Filippino Di San Filippo Neri In via delle sette chiese Lì dove c'è la chiesetta De Santa Eurossia Dopo hanno Hanno costruito La chiesa di San Filippo Neri Io le scuole medie Le ho fatte lì Tu abitavi di vicino Io le scuole medie Le ho fatte All'istituto di Cesare Baronio Poi un po' più in là C'è la chiesa Di San Francesco Saverio Che è l'apostolo Delle Indie È un gesuita San Francesco Saverio Poi c'è anche La scuola Cesare Bianchi Giorgia Meloni Io ci ho fatto La quarta elementare Alla scuola Cesare Bianchi Che fu costruita Ai tempi del luce Sai E allora Io lo so Tu sei della Garbadella Io la Garbadella Ho vissuto per più di venti anni Alla Garbadella Ho trascorso Tutta la mia infanzia E la mia giovinezza Ho fatto pure L'università Sono arrivato Sino all'università Capito Adesso Adesso io Alla Garbadella Ci vado tutti gli anni Ci vado Due o tre volte all'anno Alla Garbadella Vado a lavorare Al Bar Malù Alla Garbadella Lo sanno tutti Quelli che mi seguono Su Youtube E su Facebook E c'è l'accento Straccicato Alla romana Straccicato Straccicato E si vede che là su Nel su Tirolo Non piace il tuo accento Io lo conosco bene L'accento romano Capito? Io sono capace Di parlare Il dialetto romano E sono capace E quando tu parli Giorgia Meloni Io devo fare così Vedi Mi devo Mi devo Mettere le mani Agli orecchi Perché è la tua voce La tua voce Giorgia Meloni Mi entra nel cervello Ma non c'è niente di male Non c'è niente di male E la tua è una voce sonora Squillante Dio, patria e famiglia E tranquilla sai Giorgia Meloni Perché adesso Questo professore Passa un brutto quarto d'ora Perché ci sarà Ci saranno delle interpellanze Parlamentari Interverrà pure il governo Asburgico Cioè il governo Il governo austriaco Ci saranno le interpellanze Passerà un brutto quarto d'ora Questo professore Tranquilla Giorgia Meloni Tranquilla Te lo dice Serafino Massoni Che è stato professore Di filosofia e storia Nei licei classici e scientifici E poi preside di ruolo Nei licei classici e scientifici E Last But not least Autore di quest'opera Storico-mitologica Che spiega Come l'umanità È passata dal Matriarcato Al patriarcato Ok Giorgia Meloni Ok Giorgia Meloni A te Giorgia Meloni E a tutti voi Come son solito dire Tanti cari saluti Dalla stirpe del serpente Tanti cari saluti Dalla stirpe del serpente Dalla stirpe del serpente A te Dalla stirpe del serpente